Partiamo con l'arriete. Non c'è bisogno di alzare subito la voce se qualcosa non va. Oggi sul lavoro potreste risultare imperiosi e poco simpatici. Toro, una piccola nota stonata potrebbe essere la vostra mancanza di duttilità. Oggi le cose devono funzionare come volete voi, altrimenti non ce n'è. Solo che facendo così renderete difficile la comunicazione con gli altri. Gemelli, vi sentite stanchi e poco ben disposti nei confronti degli altri. Allora cercate di passare indenni attraverso questa giornata che potrebbe mettere a dura prova il vostro sistema nervoso. Cancro, la mattina potrebbe portare qualche noiosa discussione all'interno dell'ambiente professionale. Le stelle raccomandano di stare tranquilli e di evitare inutili polemiche. Già nel pomeriggio sarete più rilassati. Leone, le cose funzionano in modo positivo e voi oggi vi sentite in grado di affrontare qualsiasi difficoltà. State attenti però a non sopravvalutare le vostre capacità perché potreste andare incontro a qualche delusione. Vergine, vecchi rancori assopiti potrebbero risvegliarsi all'improvviso rendendovi incattiviti con la vita. Se potete, evitate di raccontare in giro quello che sentite dentro perché potreste farci una brutta figura. Bilancia, una chiamata, una mail o una lettera arriveranno in giornata per rimettere in discussione una situazione lavorativa. Non preoccupatevi più del dovuto perché non impiegherete molto a trovare una nuova strada per raggiungere i vostri obiettivi. Scorpione, non cedete alla tentazione di concludere in fretta un lavoro di cui siete saturi. Infatti c'è il rischio di inficiare tutta la buona riuscita di quanto operato fino a qui. Sagittario, qualche cambiamento improvviso di programma potrebbe buttare all'aria i vostri progetti. Al primo momento la cosa potrebbe innervosirvi ma alla lunga vi accorgerete che potrebbe rivelarsi un bene. Capricorno, sul lavoro nessuno vi può fermare. Siete pieni di idee e la vostra carica di simpatia vi farà ben volere da chiunque avrà a che fare con voi. Anche in famiglia sarete il punto di riferimento per tutti. Acquario, giornata ricca di buoni stimoli per chi fa un lavoro di natura creativa. Invece chi ha bisogno di massima concentrazione potrebbe essere troppo distratto col rischio di commettere così qualche errore. Pesci, l'aria si presenta attesa nell'ambiente di lavoro. Evitate confronti pesanti perché potreste uscirne con le ossa rotte. Cercate invece il dialogo. Sarà il modo più costruttivo per sistemare un piccolo disguido.